Una gara decisamente fuori programma, la corsa per bloccare il ladro che le aveva appena derubati. Calciatori da una parte, malvivente dall'altra. Scenario dello sprint atipico, Montebelluna. Tre cellulari, tre portafogli e 500 euro in contanti, il bottino che era stato rapidamente raccolto da un 31enne marocchino nella razzia dentro gli spogliatoi dei campi sportivi di Piazza Tartini, mentre la storica squadra del GSA Amatori Montebelluna era impegnata nell'allenamento serale, come ogni giovedì. Allenamento è pizza, come sempre, ma non stavolta. Il fuori programma raccontato da chi ha avuto la prontezza di scoprire il furto, l'allenatore Alessandro Mazzon. Si sono presentati questi due ragazzi in porto campo che urlavano, un po' inciccavano e un po' prendevano in giro e a un certo punto l'ho trovato, non c'era più, uno di loro non c'era più, sono andato di corso in spogliatoio e l'ho trovato dentro lì con le mani nel sacco. Al buio il 31enne stava prelevando il bottino dai giubbotti appesi. Vistosi scoperto, prima negato, poi è schizzato via, facendo nascere l'inseguimento al quale si sono uniti subito i giocatori della squadra. Sempre l'hanno imparati perché ha fatto un giro tondo, diciamo. È andato per una stradina, poi è saltato, è entrato dal Mazzalovo e alla fine è andato sulle case popolari che ci sono lì. Il 31enne intanto si stava disfacendo del mal tolto, poi è stato bloccato. L'allerta immediata al 112 è infatti consentito alla pattuglia dei carabinieri di recarsi sul posto, arrestarlo e recuperare la rifurtiva. In dieci anni che sono lì che alleno è stata la prima volta. Tira triste ti lascia un po' di amaro in bocca, diciamo, perché un po' perché vedi queste cose che succedono, vedi come sono certe situazioni, perché lo vedi che è un ragazzo che non sta al mondo, perché comunque era profondamente alterato. Un po' ti è triste quello, un po' il fatto di sapere che pensi che sei andato a fare un allenamento per divertirti e ti ritrovi in una serata del genere. Ti lascia un po' di amaro in bocca. Grazie a tutti.